Non c'è pace per gli operatori della neve. Se qualche giorno fa il Comitato Tecnico Scientifico e la Conferenza delle Regioni avevano approvato le linee guida per la ripartenza delle stazioni scistiche in zona gialla, seppur con spostamenti vietati ancora tra regioni almeno sino al 25 febbraio, il ritorno in arancione dell'Abruzzo diviso in due tra rossi e arancio complica tutto. E la stagione invernale qui, mai partita, può considerarsi finita se non per gli atleti professionisti, con grande rammarico degli operatori delle aree interne che vedono l'economia al collasso, come del resto altre categorie. Non si può nemmeno dire che la stagione è finita, non è nemmeno iniziata e purtroppo, purtroppo, con quest'ulteriore stop si va verso la chiusura, almeno dal punto di vista turistico. Poi se a metà marzo si apre, non so per chi, per i residenti o quant'altro, però la parte turistica, economica del turismo è bella che è chiusa. Economia al collasso, si diceva, solo il 15% del totale nazionale dei maestri di sci, peraltro, sta lavorando, più tutto l'indotto che è fermo e senza contare tutti gli investimenti fatti per riaprire ed essere in regola. Noi è dal 9 marzo che siamo chiusi, dal 9 marzo dell'anno scorso, non lo so, speriamo nelle istituzioni, però nemmeno, sai, il problema è talmente grande che uno capisce pure che probabilmente non si arriverà a tutti. Certo, sono state fatte le spese, i mancati incassi soprattutto, e niente, l'enorme difficoltà economica delle famiglie che vivono di queste cose, speriamo, speriamo che ci si arrivi, almeno in parte, a dare un piccolo aiutino a chi veramente sta in grossa difficoltà. Grazie. 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 Grazie.